domani contro l'Udinese da parte della sua squadra dopo la Supercoppa e che partita deve fare la sua Juve per battere l'Udinese? Grazie Ma non è una questione di reazione perché la Supercoppa è una partita secca al campionato è un percorso completamente diverso tra l'altro domani affrontiamo una squadra che è una squadra fisica una squadra che difende molto bene sarà una partita completamente diversa da quella che abbiamo giocato con l'Inter e con la stessa Roma e quindi bisognerà avere molta pazienza bisogna fare una partita di grande lucidità di grande precisione tecnica e cercare di vincere cercare di invertire un pochino quello che sono stati finora i risultati con le squadre di medio-piccole Buongiorno mister Giovanni Albanese Sport Italia le chiedo se visto il momento e le energie sprecate contro l'Inter domani potrebbe esserci spazio per qualche giovane in particolare per Caglius Orce grazie Domani sicuramente ci saranno dei cambiamenti perché abbiamo giocato 120 minuti a distanza di due giorni venivamo dall'ultima partita di Roma due giorni prima avevamo giocato con il Napoli in casa quindi fortunatamente siamo tutti abbastanza bene a parte Danilo che non è ancora a disposizione e Bonucci che nell'allenamento di ieri ha avuto un risentimento e quindi lo riavremo dopo la sosta Buongiorno Romeo Agressi Goal.com Mister, nei giorni scorsi quando si vociferava di Morata in chiave mercato ci ha raccontato che gli ha detto tu da qui non ti muovi le chiedo se ha fatto lo stesso con Arthur in queste ore grazie l'ho già detto altrimenti diventa abbastanza noioso la rosa della Juventus è questa con questi giocatori dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alla fine della stagione vuol dire cercare di centrare i primi quattro posti cercare di andare avanti in Champions martedì abbiamo la Coppa Italia e quindi bisogna rimanere concentrati su queste cose stiamo crescendo come squadra stiamo lavorando bene con il massimo impegno per cercare di ottenere il massimo dei risultati e quindi dobbiamo solamente rimanere sereni Buongiorno Mister, Filippo Consiglio del Corrierello Sport lei l'altro giorno dopo la partita con l'Inter ha detto che era un test per vedere a che punto siete rispetto ai nerazzurri ecco cosa ha detto secondo lei la partita quanto è il gap rispetto ai nerazzurri? grazie non ho detto ho detto che se non sbaglio che l'Inter è la squadra più forte del campionato della stagione questo dimostra che sono primi in classifica in campionato continuando quello che hanno fatto l'anno scorso poi una partita secca sono gli scontri diretti di grandi partite sono una storia a sé noi dove bisogna essere più bravi nelle piccole partite perché le piccole partite sono completamente diversi mancano gli spazi c'è un po' meno attenzione e su questo noi bisogna essere molto bravi quindi io credo che che la squadra sta mettendo tutto l'impegno massimale per ottenere risultati la Juventus l'ha dimostrata anche l'altra sera è una partita dove all'inizio eravamo nettamente sfavoriti dati per tutti qualcuno aveva previsto anche una goleada la squadra ha fatto molto bene sotto il piano dell'impegno poi dovevamo migliorare l'altra sera nel momento decisivo della partita ovvero quando siamo andati in vantaggio abbiamo avuto delle situazioni favorevoli da sfruttare meglio l'attacco alla porta diciamo potevamo costruire meglio delle azioni negli ultimi 30 metri però questo piano piano ci arriviamo però la squadra ha fatto bene contro un'ottima un'ottima Inter assolutamente poi dispiace aver perso il 120esimo ma la prestazione del gol non gol non cambia assolutamente quello che è il giudizio sulla squadra ciao buongiorno Nerossi Corriere Torino Corriere della Sera senti arriva bene ha fatto un paio di volte delle valutazioni da manager dei giocatori anche di Di Bara dicendo che ognuno si deve guadagnare lo stipendio che richiede i soldi che richiede la tua valutazione invece tecnica Di Bara è un giocatore su cui si può costruire un progetto di squadra un futuro grazie io come ho sempre detto le valutazioni di contratti sono cose societarie perché poi dopo per fare i contratti direi ci sono delle trattative quindi non sono cose che mi riguardano per quanto riguarda la valutazione tecnica di Di Bara io Di Bara l'ho cresciuto è arrivato dal Palermo era un bambino ora acquisito esperienza è un giocatore straordinario è un giocatore che ha qualità tecnica è un giocatore che ci può dare nella prima parte di stagione causa infortuni l'abbiamo avuto meno e ora nella seconda parte di stagione è un giocatore da cui io mi aspetto molto ma tutti ci aspettiamo molto in fase realizzativa in fase di prestazione della partita cioè il valore del giocatore non si discute Paolo è un grande giocatore Buongiorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport io volevo chiederti se appunto hai parlato di cambiamenti volevo sapere se possono riguardare anche la fascia sinistra se magari può giocare Luca Pellegrini come sta se è pronto Pellegrini ha ripreso è pronto domani potrebbe giocare dall'inizio però è rientra quadrato alla squalifica abbiamo De Sciglio che comunque insieme Alex l'altra sera hanno fatto una buona partita perché Alex purtroppo ha commesso con l'ingenuità finale ma ha fatto una buona partita soprattutto sotto l'aspetto difensivo che era tanto che non vedevo fare e quindi sono contento poi purtroppo è successo quell'errore ma nel calcio può capitare Buongiorno Fabrizio Ferreiro Mediaset due domande c'è una domanda su tutti i giocatori perché sono due domande Gabriele mi guardano male Scesni e Krusevski per domani dove le facciamo giocare uno in porta forse ma non sono neanche sicuro io Krusevski in porta eh giusto a volte sai no perché sono dei dubbi perché una portiera giocava tutti sono tutti bravi quindi posso giocare anche all'attacco io lo metterei in porta poi ognuno fa un ruolo rientra Scesni e c'è il dubbio tra Krusevski e Bernardeschi che ha fatto una bella partita Krusevski lo stesso quindi domani i cambi abbiamo maggior ragione dovranno determinare la partita perché ne abbiamo cinque e quindi devo cercare di un attimino di di miscelarli no la situazione è come prima quindi fa il viaggio cioè no 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 la situazione non è come prima perché sono passati credo i i dodici giorni e quando quindici e quindi è a posto al dodici arrivava arrivava con l'acqua alla cuore arrivava lì con il gancio se si giocava il tredici mattina verso le due di notte poteva arrivare tranquillamente in albergo con noi no 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 non si chiede niente nel rinvi si chiede niente a me quando mi dica di giocare andiamo e giochiamo Ministro Nicola Gallo Mediapason lei ha detto dei contratti si occupa la società però le chiedo se per lei potrebbe essere un problema doversi affidare a diversi giocatori il cui futuro ancora tutto da scrivere penso soprattutto in attacco perché se non ci siamo persi qualcosa sia Morata che Di Bala non futuro tutto da scrivere o se siamo noi che dobbiamo stupirci di meno perché effettivamente nel calcio attuale vediamo sempre più giocatori che arrivano alla fine dei loro anni di contratto e quindi insomma sembra una cosa che stia cambiando nel tempo guardi do ragione sul fatto che secondo me c'è troppo stupore in questa roba qui è una cosa normale ma in tutti i lavori quando ci sono i manager d'azienda che arrivano a fine contratto cioè non è che si impegnano meno o lavorano meno per l'azienda il calcio è sempre basato sul terreno verde bisogna andare in campo e fare e poi bisogna bisogna vedere se ci può essere anche delle decisioni dei giocatori che vogliono cambiare aria non è questione che la società non vuole rinnovare i contratti magari ci sono dei giocatori che vogliono cambiare aria però fino alla fine devono comunque giocare perché è semplice la cosa se vai in campo e fa male non trovi il contratto né alla Juve né da un'altra parte cioè non è che ci vuole tanto se fai bene poi decidi te ti metti nelle condizioni dire voglio rimanere voglio andare via ma questo vale per tutti per i giocatori per gli allenatori per i dirigenti vale per tutti l'unica cosa per mettersi dalla parte della forza contrattuale è far bene e quindi uno può essere a scadenza non può essere a scadenza non cambia niente anzi se è a scadenza può essere un valore aggiunto se sfruttato bene perché comunque ti metti ancora più dalla parte di forza nei confronti della società dove giochi e dell'eventuale società che ti vengono a chiamare ma questo è sempre esistito ora di più ma quanti giocatori ora ultimamente arrivano a scadenza perché comunque vogliono trovare le motivazioni vogliono credo che sia una cosa normale ma fino a come sono dentro devono andare in massimo ma lo devono fare per forza Massimo Lanari Raiti GR Piemonte volevo chiedere se McKennie a questo punto è diventato un punto fermo di questa Juve e poi riagganciandomi a quanto ha già risposto un parte già adesso però su Dybala queste schermaglie un po' più o meno pubbliche danno un po' fastidio alla serenità dell'ambiente grazie ma no se non cioè il direttore arriva bene ha parlato a nome della società ha detto chiaramente che comunque siamo in una situazione dove siamo fuori momentaneamente alla Champions la Champions per i primi quattro posti quindi tutte le valutazioni verranno fatte a marzo-aprile ma credo che sia un discorso di programmazione della Juventus ma dovrebbe essere di ogni società ecco quindi la Juventus si programma così e quindi noi bisogna solamente pensare a giocare a lavorare l'ho detto prima quindi noi bisogna andare sul campo e fare dei risultati poi il resto lo vedremo più avanti poi per quanto riguarda McKennie più che punto fermo si muove perché la Torino ha fatto 16 km quindi si muove abbastanza però è cresciuto è migliorato secondo me può migliorare ancora ma tutta la squadra sta crescendo ecco l'importante è capire che noi non possiamo la dimostrazione l'altra sera con l'Inte ma anche nelle altre partite non possiamo giocare partite sotto ritmo giocare partite con grande rispetto all'avversario qualunque sia il tipo di avversario questo sì Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport intanto le volevo chiedere visto che ci ha detto di questo infortunio di Bonucci se toccherà ancora a Chiellini dopo 120 minuti giocate a quel livello oppure se ci sarà Rugani poi una curiosità domani sono 300 panchine qual è la partita per me sono 300 panchine? sì con la Juventus grazie in tutte le competizioni se le viene in mente così di getto la partita quando è tornata a casa ha detto questa è stata una partita indimenticabile la partita così è stata quella di Madrid siamo stati eliminati ma è stata una partita meravigliosa ce ne sono state altre meravigliose quella di Monaco ci sono state tante partite belle Londra con il Tottenham che eravamo pieno di generale sono state belle partite ma quella di Madrid è stata una partita veramente bella perché soprattutto ribaltare il risultato così l'avevamo quasi ribaltato poi non ci sono riusciti è stato veramente bello speriamo di festeggiarlo nel migliore dei modi domani ma non lo sapevo Chiellini no Chiellini ragazzi Chiellini no veramente pensavo di trovarlo di trovarlo fra le decine di giorni invece stamattina ho visto respirava quindi no no non giocalo Delitto e Rugani salve mister salve mister Giorgio Musso del calciomercato.it per ritornare alla partita di Supercoppa le chiedo qual è per il momento la vera differenza tra la Juventus e l'Inter grazie l'Inter è la squadra più forte del campionato punto questo non è che deve sminuire l'Inter è la squadra e la rosa più forte del campionato punto in questo momento l'anno prossimo vedremo in questo momento è così poi quando gioca le partite secche viene fuori l'orgoglio della Juventus perché la Juventus che tutti spesso danno per morta non è mai morta e questa è la cosa più importante l'altra sera ha fatto una partita d'orgoglio tecnica ha interpretato bene la partita e quindi sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi poi alla fine l'errore di Alexandro non se lo aspettava nessuno quindi però comunque alla lunga se l'Inter è davanti alle altre squadre perché è la più forte e il campionato alla fine della stagione alla fine dell'ultima giornata chi vince perché si è dimostrato più forte in tutto l'anno e è la più forte perché io campionati vinti da squadre più debole uno mi ha visti le ultime due Buon pomeriggio mister Luca Cavallero TV Radio le chiedo come sta Rabiot se c'è la possibilità di vederlo domani e se è soddisfatto in generale di questo avvio di 2022 grazie Allora per quanto riguarda Rabiot anche Rabiot è stato criticato l'altra sera che non ha fatto l'altra sera Rabiot ha fatto una buona partita ha fatto una bella partita che comunque ha giocato un uno contro uno contro Barella a tutto campo e l'ha diciamo messo in grossa difficoltà anzi l'ha sovrastato e Barella è un grandissimo giocatore soprattutto come poi Rabiot è un giocatore votato al sacrificio e su questo è stata una piacevole sorpresa perché comunque ha corso molto si è dato a fare si è messa a disposizione per la squadra e quindi la prestazione l'altra sera è stata una buona prestazione per quello che doveva fare Salve mister c'è una stampa vorrei chiederle alla luce di quello che è successo con Bonucci il dirigente dell'Inter dopo la partita e anche quello che è successo tra lei e l'arbitro dopo Juve-Napoli ma non c'è forse un po' troppo nervosismo in queste situazioni non eravamo abituati oggettivamente a questo tipo di reazioni teme questo effetto grazie no allora io in vent'anni sono stato squalificato due volte a parte l'altro giorno ora c'è quella di Coppa Italia dopo la partita con Napoli va bene dove sono andato dopo all'arbitro a dire delle cose ma sbagliando perché non dovevo però anche io ogni tanto uno ogni vent'anni concedete ma sennò veramente non sono sono anche io un uomo ho delle cose anche io che se viene toccato ogni tanto e per quanto riguarda Leo Leo ha pagato la multa è stato multato e quindi credo che il caso sia chiuso poi a termine la partita ci possono stare dei batti vecchi ecco quindi credo che abbia pagato la multa anzi pagherà la multa che le è stata inflitta è chiuso il caso perché come comportamenti credo che la Juventus almeno abbia ottenuto sempre dei comportamenti lineari rispettosi verso gli altri e verso gli arbitri che tra l'altro l'altra sera dove era arbitrato una bellissima partita è stato molto bravo nel gestirla e nel condurla bene grazie a tutti buona giornata grazie a tutti